Parte a Napoli il progetto Giubox, diamo voce ai libri, promosso dall'assessorato alle politiche giovanili e al lavoro e finanziato con 120 mila euro dal Dipartimento per le politiche giovanili ed il Servizio Civile Universale. Scopo del progetto è quello di potenziare l'offerta di servizi innovativi nelle biblioteche pubbliche per i giovani tra i 14 e i 35 anni. Siamo molto contenti di questo finanziamento ottenuto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che riguarda i giovani e la possibilità di incentivare l'utilizzo delle biblioteche. Il Comune di Napoli ha scelto di investire queste risorse del Ministero in un bene che non è molto conosciuto, soprattutto ai nostri giovani, che è la Mediateca Santa Sofia, proprio al centro della città e che è anche un luogo importante visto che è anche un patrimonio molto ampio di libri, di audiovisivi e una fonoteca dedicata al mondo del cinema. Quindi con il nostro progetto vorremmo non solo incentivare l'utilizzo dei libri da parte dei giovani, anche in una modalità più nuova attraverso book crossing, attività di scrittura e lettura creativa, ma vorremmo anche valorizzare questo patrimonio della Mediateca Santa Sofia attraverso anche audiolibri e quelle che possono essere modalità innovative e creative per avvicinare il mondo dei libri e del cinema a quello dei giovani. Saranno potenziati quindi i servizi offerti dalla Mediateca Santa Sofia in partenariato con l'Associazione di Promozione Sociale, articolo 45. La Mediateca ospita un vastissimo patrimonio audiovisivo, una biblioteca di letteratura legata al cinema e una fonoteca fruibile gratuitamente. In particolare il progetto prevede, oltre al potenziamento delle attività già presenti, la realizzazione di laboratori di lettura e scrittura creativa, un laboratorio artistico e incentrato sulla cinematografia e un laboratorio per la realizzazione di audiobook.